Buongiorno, benvenuti al dibattito di Omnibus in questo venerdì che vedrà un consiglio dei ministri dove dovrebbe essere varato tra l'altro questo famoso provvedimento salva casa. Ne parleremo perché tutto questo arriva all'indomani della sospensione del redditometro. Va bene, vi presento subito gli ospiti di oggi. Buongiorno a Federica Fantozzi e l'ha finito al posto. Bentornata Federica. Poi c'è Salvatore Merlo, il vice direttore del Foglio con il suo, credo lo possiamo vedere, destra, sinistra e viceversa. Scritto insieme, lo vediamo? Eccolo qui, scritto insieme ad Antonello Caporale. Buongiorno anche a te. Buongiorno. Poi c'è Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage. Ciao Francesco, anche lui ha un libro attualmente in vendita nelle librerie nel continente nero dedicato al fenomeno del populismo in Europa, più attuale che mai. Buongiorno Francesco e buongiorno a Fabio Martini della Stampa. Ciao Fabio. Allora, partiamo proprio dall'Europa. Vediamo che cosa è successo ieri in quel dibattito che era molto atteso a livello europeo ma che in Italia è passato praticamente sotto silenzio. fra i candidati delle diverse alleanze europee in vista del voto dell'8 e 9 giugno. Si gioca lontano da Roma a Bruxelles, partita politica che non è solo del giorno di un giorno ma che getta le basi per le alleanze e gli scontri anche post voto. Il colpo più spettacolare che si è annunciato è l'espulsione della delegazione di Alternative für Deutschland, l'estrema destra tedesca, dal gruppo ultraconservatore identità e democrazia, quello di Matteo Salvini e Marine Le Pen. E tuttavia le dichiarazioni più importanti per le ricadute sul centrodestra italiano e sulle possibili future mosse di Meloni sono quelle di Ursula von der Leyen, Partito Popolare Europeo, presidente della Commissione Europea uscente ma con la speranza del rientro. Lavoro bene con Meloni e pro Europa, pro Stiato Uniti e anti Putin, ha dichiarato von der Leyen durante il gran dibattito dei candidati ufficiali alla presidenza. Parole da mettere a confronto con quelle durissime dedicate agli altri leader delle destre. Marine Le Pen, amica di Putin, AfD, nazisti, differenze colte dall'intervistatrice che infatti chiede dunque, lei sta prendo i conservatori europei, il gruppo di destra che Meloni guida a Strasburgo? Von der Leyen risponde no, non al gruppo come tale, ci sono tante differenze solo a qualche singolo deputato, come Meloni appunto. Insomma è un'apertura di credito che ancora una volta arriva da von der Leyen che cerca una sua maggioranza ma che in quanto esponente di peso dei popolari europei deve stare attenta alle incompatibilità. Ecco quindi scegliere chi lo dare e chi no quali segnali mandare a destra in una fase delicatissima viste le grandi manovre soprattutto la scelta di Marine Le Pen e a ruota di Salvini di utilizzare la scivolata di Maximilian Krah, capodelegazione di AfD a Strasburgo sull'SS, non tutte da condannare, così ha detto in due interviste a Repubblica e Financial Times, per prendere le distanze fino a tagliare i ponti, oggi. Via dal gruppo ai nove parlamentari di AfD, fra cui Gunnar Beck che è di identità e democrazia, il vicepresidente, il presidente e il leghista Marco Zanni. Un taglio funzionale alla futura partita presidenziale di Le Pen, Francia 2027 naturalmente, ma nel breve, vista da von der Leyen, anche primo indicibile spiraglio da considerare, pur condannando la linea fin qui filo russa. Rassemblement nazionale, il partito di Le Pen, come AfD, sono amici di Putin, ha detto von der Leyen. Per fratelli d'Italia, confidenza, l'espulsione potrebbe creare lo spazio per un'alleanza fra partito popolare europeo, conservatori liberali e macroniani, il sogno di escludere i socialisti. Per me la coalizione ideale è quella formata da popolari, conservatori e liberali. La Lega che al governo con noi potrebbe entrare la reazione in sintonia di Antonio Tajani, in quanto leader di Forza Italia, convinto tuttavia a tenere in piedi quel veto su Marine Le Pen, senza il quale sarebbe difficile dialogare in Europa con il presidente Macron. No, non è un fatto personale, è una questione di contenuti e di valori, ha detto. Francesco Cancellato, citavo il tuo libro prima. Che ti pare di questo dibattito e delle cose che ha detto von der Leyen? In fondo abbastanza prevedibili, cioè l'intesa con Giorgia Meloni era visibile nelle cose degli ultimi mesi. Sì, secondo me questo è il dato strutturale, poi ci sono tantissime piccole situazioni tattiche che si innestano in questa simpatia umana che c'è e questa consonanza politica che c'è tra von der Leyen e Meloni. Primo dato, von der Leyen teme un avvicinamento Meloni-Le Pen dopo l'espulsione di AFD dal gruppo di identità e democrazia e quindi prova a spaccare quel fronte, parla bene di una e parla male dell'altra. Secondo dato, il tema dell'alleanza diciamo larga, quella delle destre diciamo che vede assieme popolari, identità e democrazia l'ECR, quella che vorrebbero ad esempio la Lega di Salvini, dopo l'uscita di AFD di fatto diventa un'opzione in qualche modo percorribile, magari nel medio periodo, non subito, perché di fatto era AFD il vero ostacolo, banalmente perché la CDU che è la parte più importante del PPE non vuole assolutamente diciamo che ci sia un'apertura del Partito Popolare Europeo a Alternative for Deutschland. Terzo dato, tutto questo si innesta in una competizione tra donne, tra leader della destra, ossia tra Marine Le Pen e Giorgia Meloni. L'uscita di AFD e il contemporaneo ingresso di Fidesz dentro il gruppo dei conservatori riformisti sposta diciamo in qualche modo i pesi all'interno della destra. Se prima con AFD che eleggerà parecchi deputati, il gruppo di identità e democrazia era più forte rispetto a quello di Meloni, adesso con la contemporanea uscita da AFD e con l'ingresso del gruppo di Orban dei deputati di Fidesz, più che probabile dentro ECR, ECR acquista un nuovo peso all'interno della destra europea e quindi detta maggiormente le condizioni per un dialogo col Partito Popolare Europeo. Detto questo, secondo me, nonostante le aperture, non è in discussione o comunque non sembra essere in discussione anche per i numeri un'alleanza post-elezioni tra popolari, socialisti, liberali e verdi, analoga a quella che c'è oggi. Staremo a vedere, ma allo stato attuale diciamo, lo scenario sembra prevedere nuove possibili convergenti, nuove possibili aggregazioni, ma sono ancora abbastanza lontane. Allora Salvatore, diceva giustamente un attimo fa Francesco che l'alleanza, diciamo quella che governa praticamente da sempre l'Europa, è questa intesa fra eurosocialisti, popolari con i liberali. E quindi il tentativo di scongelamento, diciamo, delle destre che è avvenuto, i conservatori già partecipavano a qualche iniziativa, invece identità e democrazia erano fuori proprio per la presenza di AfD. Tardiva la mossa forse dell'esclusione di AfD, ma certamente la destra europea entra nei grandi giochi in questo momento. Non lo so, non ne sono sicuro. Voglio dire che secondo tutte le proiezioni, almeno quelle che abbiamo visto noi, la somma di questi partiti non fa una maggioranza. Quindi il progetto di un rapporto... Da soli, cioè destra più... Il Partito Popolare più la destra non governano, secondo tutte le proiezioni e tutti i sondaggi. Quindi è un progetto politicamente molto complicato, ma anche numericamente a quanto pare. Certo, poi magari i sondaggi sono tutti sbagliati e dopo le elezioni europee scopriamo che non è così e che invece hanno la maggioranza. Però a quel punto resta un problema politico, non semplice da risolvere, perché non solo AfD è considerato un partito che non è accettabile nel consesso della democrazia europea, che non è mai stato accettato nei tavoli che riguardavano, non dico la Commissione europea, ma nemmeno l'elezione del Presidente del Parlamento europeo, ma nemmeno le commissioni interne al Parlamento europeo. Ma questo vale anche per Marine Le Pen. Marine Le Pen è assolutamente inaccettabile per il Partito Popolare europeo, non c'è verso. Quindi la mia impressione è che Le Pen negli ultimi mesi ha cominciato a dare dei segnali al suo elettorato, all'elettorato non suo, ma all'elettorato francese. Prima ha fatto una svolta nel rapporto con l'interpretazione dei fatti gravi che stanno accadendo in Russia e in Ucraina. Lei guarda già le elezioni presidenziali, naturalmente. Guarda, a queste europee e anche alle presidenziali dei segnali sta cominciando a dire all'ampio elettorato francese che sono, guardatemi, sono accettabile, non faccio sconquassi, sto dentro agli assi cartesiani della politica europea. Tutto questo bisogna vedere che effetto fa sull'opinione pubblica francese e l'impressione che sia tutto troppo veloce, troppo esplicitamente strumentale perché troppo a ridosso delle elezioni. Noi non dimentichiamo mai che Marine Le Pen, il partito di Marine Le Pen, il front nazionale è probabilmente l'unico partito, mi pare, nell'Europa occidentale che con certezza ha preso del denaro ed è stato finanziato da ambienti che sono vicini al partito di Putin, Russia Unita. C'è stato alcuni anni fa un importante scoop giornalistico di Mediapark, un giornale d'inchiesta francese, il quale ha raccontato, documentando, mai smentito, che una banca russa e i rapporti tra il grande capitale russo e il potere politico autocratico di Putin sono ben noti, ha finanziato il partito di Marine Le Pen. Quindi, dicevo, è un partito che ha una tradizione di fortissima vicinanza politica nei confronti dell'autocrazia russa, che è sospettato di essere sostanzialmente uno strumento della politica russa all'interno dell'Europa occidentale. Tutto questo non viene e non si può cancellare con un colpo di spugna perché a poche settimane dalle elezioni europee lei dice che il suo cuore, come ha detto anche Salvini, batte tutto per l'Ucraina e che... Siamo in campagna elettorale, il cuore trova altri motivi per battere. Sì, c'era vai dove ti porta il cuore, è il famoso romanzo di Susanna Tamaro. E poi non basta certo a 15 giorni dalle elezioni europee scoprire che il tuo alleato tedesco ha al suo interno, se non una maggioranza, una preponderanza di filo nazisti. Questo mi sento di dire. Quindi due cose. Una è che c'è l'alleanza tra la destra dei popolari e la destra conservatrice, la superdestra, è numericamente insufficiente a governare l'Europa e quindi c'è un problema di numeri. E in secondo luogo c'è un problema politico che non riguarda soltanto a EFD che adesso è stato risolto, ma riguarda Marine Le Pen, la natura di Marine Le Pen, la proposta politica di Marine Le Pen, la storia e la biografia di questa grande leader della destra francese. Federica Fantozzi, oggi Salvini in un'interessante intervista da avvenire dice che è l'altro protagonista italiano insieme a Meloni, Salvini e Tajani. Ognuno ha una linea in tutta questa vicenda. Dice sostanzialmente tre cose. La prima, e l'ha sempre detto ed è l'unico a dirla in questo momento, l'Europa deve fare meno cose di quante ha fatto. Quindi è l'unico a cavalcare ancora il vento anti-europeo. Poi dice che il centro-destra, ecco il titolo, lo vuole tutto unito a Bruxelles, quindi lui conta di entrare in qualche maniera nei giochi ed era in identità e democrazia, quindi è escluso prima. La terza cosa, non sosterremo mai i draghi che è veramente una cosa singolare avendolo votato in Italia, ma in Europa dove le maggioranze sarebbero più ampie, loro si chiamano fuori. Questa è la situazione di Salvini che però in questo momento si trova a inseguire. Salvini fa la sua partita che è sostanzialmente una partita poi di non far in Italia, di non farsi superare da forza Italia, perché poi le elezioni europee in Italia vengono sempre poi viste in chiave italiana forse più di altri paesi. Sono un midterm in realtà anche negli altri paesi, però soprattutto in Italia. Quindi fa la sua partita e si differenzia da Tagliani che invece è PPE, che invece è più Europa. Già è paradossale fare una campagna elettorale con lo slogan di meno Europa. Punta su vannacci come abbiamo visto e aspetta di vedere che cosa succederà. Io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Salvatore Merlo sui numeri e su quello che ci possiamo aspettare, ovviamente salvo sorprese, salvo che i sondaggi siano sbagliati. I grandi movimenti sono a destra del PPE e lì invece ci sono quelli che si contendono insieme ai liberali, il terzo posto tutto intorno all'ottantina di deputati. Lì ci sono dei grandi movimenti, ci sono sia perché appunto è stata cacciata FD, non sappiamo cosa farà Orbán, c'è una grande competizione tra Le Pen e Meloni, c'è un rapporto diciamo di avvicinamento e allontanamento, non dimentichiamoci che adesso c'è stato concorrenza politica. Il congresso, l'evento di Vox, ma prima c'era stato il video molto forte di Marine Le Pen che diciamo sceglieva come interlocutore Salvini e era molto dura con la Meloni. Io direi che ieri c'è stato un altro elemento e cioè la campagna elettorale di Ursula von der Leyen, noi ci siamo un po' abituati in quest'ultimo periodo a considerarla un'anatrazzoppa, abbiamo letto tutto questo, ma lei è ancora in campo, è lo spizzo in candidato, non fortissima, non fortissima. Però rimane lo spizzo in candidato dei popolari, quindi lei sta facendo la sua campagna elettorale, spaccando, come è stato detto, il fronte degli avversari e giocando su questo. Ultimo elemento, c'è la maggioranza per il voto della presidenza della Commissione, però non dimentichiamo che poi sui vari dossier si formeranno maggioranze intrecciate, quindi capire anche se questo processo di normalizzazione di Marine Le Pen, che i francesi chiamano la de-diabolisation, fatto anche attraverso Bardellà, che è un nome diverso, potrà poi convincere qualcuno, perché poi la vera partita di Le Pen, anche se remota, è l'Eliseo nel 2027, che insegue da due tornate. Fabio Martini, un'altra intervista, stavolta al Corriere, parla Manfred Weber, che è il capo dei popolari europei e anche lui dice delle cose abbastanza chiare, non siamo abituati a interviste così categoriche. AFD, chiusura totale, neonazisti, quindi perfettamente in linea con la von der Leyen e quindi anche diffidenza nei confronti di Salvini. Poi ha sbagliato il PD, perché il PD ha commesso un gravissimo errore rifiutando il compromesso europeo sui migranti e quindi quello che il resto dei socialisti europei ha votato, terza cosa, si può collaborare con Meloni. Quindi diciamo la linea von der Leyen, pure da uno che non la ama come Weber, viene approvata in questo momento. Questo è lo stato delle cose. Poi? No, poi questo è il punto di caduta anche di questa iniziale chiacchierata, è il punto di chiarificazione definitiva, ci fa capire cosa sta accadendo. Primo punto, è stato detto all'inizio da Salvatore Merlo, i numeri. Le proiezioni ci dicono che l'attuale maggioranza può al massimo allargarsi, ma ha i numeri per confermarsi. Ma appunto sull'allargamento è questo il punto vero, cruciale, perché da decenni i grandi partiti moderati di centrodestra in Europa, tutti i conservatori inglesi, i gollisti in Francia, i popolari in Spagna e i gollisti in Francia hanno sempre messo un muro invalicabile alla propria destra. E questo ha consentito a loro di essere di volta in volta maggioranza, ma anche di tenere escluse tutte le forme, diciamo le destre radicali. E questo schema di gioco viene confermato in queste elezioni europee. Weber, che è presidente del PPE, oltre che capogruppo uscente al Parlamento europeo, ci dice una cosa semplice. Le Pen è finanziata dai russi, lo dice lui. Orban è finanziato dai cinesi. Meloni è un europeista. C'è da aggiungere altro? Questo è lo schema di gioco del PPE. E stiamo parlando della parte moderata del PPE, che non dimentichiamolo mai, questo se lo dimenticano gli esponenti più ruspanti della destra italiana, non è un partito di destra, è una confederazione di partiti all'interno dei quali c'è anche un'ala cristiano-sociale che mai e poi mai si allera con l'estrema destra. Il discorso è chiuso dal punto di vista degli schemi di gioco. E non a caso sottolinea il ruolo fondamentale di italiani, ex presidente del Parlamento europeo, che garantisce che chi entrerà eventualmente in alleanza è fortemente europeista. Quindi l'unica porta aperta è per Giorgia Meloni. Esatto, di qui l'esclusione di Salvini. Allora, ci fermiamo un istante, ma prima vi do una notizia. Ve lo ricordate l'attentato al Crocus City Hall? di Mosca, quello che fece 144 morti. Per la prima volta i russi dicono che è stato organizzato dallo Stato Islamico. Durante l'indagine è stato accertato che i preparativi, il finanziamento, l'attacco e la ritirata dei terroristi sono stati coordinati via internet da membri del gruppo del Khorasan, che è proprio il mondo islamico. Il ramo afgano dell'Isis. Così ha dichiarato il capo degli investigatori citato dall'agenzia Novosti. Questo vi dovevo. Ci fermiamo un istante. Le 8.27. Abbiamo parlato tanto di scenari e di sondaggi europei. Poi ci sono quelli italiani oggi ultimo giorno. Eccoli qui. Vediamo. Repubblica ne raccoglie alcuni. Quello di noto, quello di SVG e poi la supermedia AGU Trend. Diciamo che tre sono le cose, tre o quattro le cose che si possono annotare. Primo partito, sicuramente Fratelli d'Italia, tra il 27 e il 28% secondo tutti i sondaggi. Secondo partito, sicuramente il PD, sopra la soglia del 20%, fra il 25 e il 21, questi gli accreditamenti. Distaccato, ma terzo partito molto distaccato, il Movimento 5 Stelle, che oscilla fra il 15 e il 16%. Ecco, la supermedia da il 16 e poi è tra il 15 e il 16 appunto. Poi c'è la partita fra Forza Italia e Lega. Vicinissime, 8 e 7, 8 e 5. Qui la supermedia, tanto per fare sintesi, con la Lega un po' avanti e poi c'è l'altra grande partita. Chi supererà il 4%? I sondaggi dicono che sopra dovrebbero essere, la supermedia, uso questa per comodità, Stati Uniti d'Europa al 4 e 4, Verdi e Sinistra al 4 e 3, Gironzola intorno al 4 azione al 4%, fuori pace, terra e dignità, fuori libertà. Che te ne pare Salvatore? Ci credi? Questa è la situazione? No, guarda, se ci credi è una cosa... non ho il dono della fede. E non sappiamo quanti voteranno, che è sempre la grande variabile di tutti i sondaggi. Però commentiamo i sondaggi senza fare di... Bravo. Perché non lo so. Secondo questi sondaggi ci sono delle cose interessanti che balzano subito all'occhio. La prima è che la destra vince, ma in realtà non sfonda, cioè non c'è, sta lì, sta sugli stessi voti che aveva le politiche, più o meno. E questo è interessante, forse bisogna farsi qualche domanda. La seconda è che il PD, diciamo, si avvolge nel suo tramestio interno e correntizio con quelli, le anaconde delle correnti che non fanno candidare la Schlein in tutte le circoscrizioni come le avrebbe voluto. Non fa mettere il nome. Non ti facciamo mettere il nome. Se metti il nome non metti la foto, se metti la foto non metti il nome. Però sta là, al 21, sorprendentemente. Terza cosa... Salute discreta, quindi. Salute discreta, malgrado tutto. Sai di quelle cose che sfidano come il calabrone, vola, non si sa perché. No, scherzo, faccio ironia. Poi si arrabbiano gli elettori del PD. E poi c'è il 5 Stelle. Sei notoriamente una lingua e una penna tagliente, quindi ci sta. Il 5 Stelle sta al 15, quindi non c'è il sorpasso sul PD. E questa è una cosa... Anzi, c'è tanta luce. Anzi, c'è tanto spaccio. Cioè, quindi tutte le ipotesi di una centrosinistra, ammesso che il Movimento 5 Stelle sia di centrosinistra, insomma, un'alleanza di centrosinistra cosiddetta trainata dal Movimento 5 Stelle, non esiste proprio. Cioè, il PD è la prima forza della sinistra italiana. Poi, se ci vuole stare il 5 Stelle, se lo prenderanno, ma certamente da una condizione subalterna... Ecco, te lo chiedo. Questo cambia la prospettiva del dopo? Cioè, se questi sono i numeri, diciamo, il 5 Stelle tra il 15 e il 16% e il PD sopra il 20, intorno al 20, cambia in realtà? Perché per il momento c'era Schlein che si affaticava a offrire comunque sempre una sponda a Conte. E Conte, un po' sdegnato, che accettava solo i suoi candidati, praticamente, e rompeva quando non c'era un 5 Stelle o un amico dei 5 Stelle. Guarda, la logica dovrebbe essere questa. Che se fai le elezioni europee, che sono proporzionali, sei in concorrenza anche con i tuoi potenziali alleati del futuro. Se fai alle elezioni politiche, che sono elezioni coalizionali, devi trovare un accordo. Quindi può darsi, se non... questo dice, almeno, la logica, che dopo le elezioni europee si entra dentro un percorso di... si metteranno insieme in qualche modo. Io immagino, se devo fare una proiezione sul futuro, è che entreremo, siccome poi la sinistra ama molto discutere, è anche la cosa bella nella sinistra, se vogliamo. Spesso solo quello, però? No, no, è bello. Cioè, è molto democratico e anche molto divertente dal punto di vista del giornalista. Voi dovete pensare che noi a fare, i cronisti e i giornalisti, quando non c'è dibattito dentro le forze politiche, quando le decisioni vengono calate dall'alto, quando tutti, anche quando non sono d'accordo, fanno finta di essere... Il PD è il paradiso del cronista parlamentare, perché ha tutte le declinazioni, ha tutte le sfumature... Confessione, confessione da cronista politico. Ma è la verità pura. Ci sta. Però, stavo dicendo, vedremo, immagino che il film, dopo le elezioni europee, sarà intorno alla figura del federatore del centro-sinistra. Paolo Gentiloni è tornato, si è affacciato anche un paio di volte a Roma e sarà questa la discussione. Però la terza cosa che volevo dire, guardando i sondaggi, è quella che riguarda il cosiddetto centro moderato, il polo laico e il repubblicano, c'è il terzo polo, c'è Calenda e Renzi. Qui c'è una cosa da dire. Non so se i sondaggi, era la premessa, sono fidabili o no, però se nessuna delle due formazioni che compongono il terzo polo dovesse entrare alle europee, ma questo è un segnale fortissimo di, come dire, è la cassazione sulla leadership e sul modo in cui hanno costruito questa parte politica che ha un elettorato, ne ha tanti elettori, che vuole essere rappresentata e che non viene rappresentata dai partiti che in questo momento è un processo. Io immagino, immagino soltanto che se venisse fuori qualcuno, non lo vedo nemmeno all'orizzonte al momento, che però ha carisma, si rivolge a quell'elettorato, lo sa rappresentare, li fa fuori tutti e diventa interessante perché quando si sono presentati insieme, quando esisteva un polo repubblicano laico alle elezioni politiche, alle ultime, hanno preso l'8%, che è tantissimo. È incredibile come abbiano potuto dissipare fino a qui questo patrimonio, è semplicemente inspiegabile per chiunque abbia un afflato verso quell'idea del mondo, delle cose, dell'Europa, che la rappresentanza si sia divisa e grottesco il modo in cui si sono separati e se non dovessero entrare alle elezioni europee sarebbe la croce su tutta un gruppo e una classe dirigente. L'intemerata ci sta tutta, Salvatore. Federica, che ne pensi? Questi sondaggi che ti dicono? Allora, partendo dal PD di cui parlava Salvatore, la logica dice delle cose, ma non è la logica a muovere il mondo e tantomeno la politica. Quindi io penso che, purtroppo, questi numeri ricristallizzano e aumentano un divario che però già c'era, cioè il 5 Stelle non sono mai stati a meno di 4 punti, 3 punti e mezzo dal PD. Eppure abbiamo visto quello che è successo finora. Io credo che la dinamica di Conte, come si è visto alle regionali, come si è visto tra la Sardegna e la Puglia, non preveda, diciamo, di fare quello che dicono i numeri, cioè il junior partner di una coalizione. Quindi il campo largo lo vedo accidentato e per fortuna, dal loro punto di vista, manca ancora un bel po' di tempo alle elezioni politiche, perché non è semplice. Io poi non credo ai federatori e quindi bisognerà vedere che cosa succederà nel PD, come se e come si consoliderà la leadership di Ellis Line dopo questi europei. Sul terzo polo, al di là, anche se lo passassero, anche se passassero... L'ha saltato, Salvatore. Lega forza Italia. Lega forza Italia. Una cosa breve sul terzo polo, anche se passassero, anche se superassero la soglia del 4% e comunque la metà dell'8%, c'è comunque una considerazione piuttosto amara su questo elettorato e secondo me più che i nomi è stata la strategia, la lite, la continua punzecchiatura, questo che ha scoraggiato. Interessanti anche le partite di Forza Italia e Lega. Forza Italia perché diciamo che noi cronisti la davamo, se non per morta, certamente non a questi numeri, non al 9% di cui parla ora Tajani. Parla anche del 10, se è per questo. Parla anche del 10. E quindi comunque è interessante, ma secondo me la partita più interessante è quella della Lega, dove Salvini ha recuperato, perché fino a poco fa era al 7%, allora non sono in grado di dire se sia la pace di Lizia, se sia la candidatura di Vannacci, ma ci sono due leghe. C'è Salvini che da quando ha candidato Vannacci ha portato a coagularsi, a emergere uno scontento del Partito del Nord, dei governatori, di Giorgetti persino, contro questa linea. Allora a questo punto lui o la va o la spacca. Al voto va la Lega di lotta, mentre la Lega di governo è esclusa i governatori, l'apparato. Va la segreteria di Salvini, ma anche se se vincerà, l'innesto di Vannacci sarà poi tutto da vedere, perché non credo che sarà uno che va al Parlamento per seguire la linea di Salvini e della Lega del Nord. Quindi quella si apre, secondo me, una partita molto interessante. E ci sta tutta, e ci sta tutta. Francesco. Io vedevo questi sondaggi, mentre parlavano Salvatore e Federica, li confrontavo con quali delle elezioni del 2022. Fratelli Italia ha il 27% a questo sondaggio, nel 2022 ha preso il 26%. Il PD era il 19% e passa il 21%. I 5 Stelle erano al 16% e passano al 15%. Il Terzo Polo di fatto era l'8%, così come la Lega e Forza Italia. E se facciamo la sommatoria, o meglio, in questo caso la divisione, sono tutti ancora lì. La sensazione è che ci siamo avvitati in uno scenario da Prima Repubblica, in cui l'onda lunga dei sondaggi, una grande vittoria, è la crescita di qualche punto, di qualche decimale addirittura, neanche di qualche punto percentuale. Che gli elettorati siano molto fermi, molto cristallizzati, che la distanza tra un polo e il presunto altro polo si sia molto cristallizzata, che in qualche modo, a differenza di quanto accaduto, è ancora lunga da dire, ma per il momento sembra che a differenza di quanto accaduto tra il 2013 e il 2022, in cui è stato un decennio di elettori libera uscita dal berlusconismo e poi sono passati dai 5 Stelle al PD di Renzi, alla Lega e a Fratelli d'Italia, la situazione si sia veramente cristallizzata in uno scenario per cui un'onda lunga di crescita nei sondaggi equivale veramente a pochi punti percentuali o a pochi decimali. Questo secondo me stabilizza molto il quadro politico, al netto di tutti i divertisment da cronisti e da noi che siamo appassionati di politica, ma di fatto rende in qualche modo il discorso molto 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 più noioso. Dal mio punto di vista siamo in una fase in cui le uniche cose che possono cambiare gli scenari sono, uno, la creazione di una coalizione alternativa a quella di destra, due, l'ingresso di un federatore di centro. Salvatore Merlo non dice i nomi, ma quando parlava a me l'unico nome che veniva in mente e tra l'altro do al foglio la primazia d'aver parlato per la prima volta di questo nome, quello di Persidio Berlusconi. Fabio, che ti pare? No, aggiungo un elemento a tutto questo al quale pensiamo poco e secondo me un po' troppo poco. Il numero degli elettori e noi non sappiamo mai A quanti vanno a votare, B, che travaso c'è tra elezione e elezione fra quelli che scelgono di non votare più e quelli che rientrano a votare? No, è una domanda molto pertinente. Anzitutto, restando ai fatti, i sondaggi, da oggi non avremo più sondaggi. Se noi confrontiamo i tre principali istituti nei sondaggi che fece per le elezioni politiche del 22, 15 giorni prima e poi i risultati finali, abbiamo una distanza per tutti e tre, non faccio i nomi, di 10-12 punti. La somma, le due somme, quindi c'è un'alta percentuale di errore, quindi prendiamoli con molta cautela. Sono tutti professionisti che fanno il proprio mestiere. Che non è facile, è un lavoro difficilissimo. Non è facile e soprattutto sappiamo che l'unico modo per avere un'idea è seguire un istituto nel suo trend nel corso dei mesi più che la media dei sondaggisti. Dopodiché anche quella è interessante. Secondo elemento, se noi sommiamo le percentuali dei partiti di governo, sia pure con tutte le cautele necessarie, scopriamo che sono sostanzialmente stabili dopo un anno e mezzo di governo. Direi che è una notizia, ci può piacere o meno, ma è una notizia. Eventualmente hanno anche qualcosa in più. Questo è assai rilevante. La domanda che facevi tu è interessante perché? Perché a fronte di una freddezza che tutti i candidati in corsa rilevano dell'elettorato, è del tutto evidente che le elezioni premieranno quei partiti che riusciranno a motivare i propri elettori stretti. Nessuno va a caccia degli elettori di altri partiti. Chi ha fatto bene questo lavoro? Questo lavoro lo stanno facendo bene sicuramente le due donne leader perché Schlein ha nazionalizzato la sua campagna elettorale, ignora completamente la vicenda europea, si concentra sul salario minimo e sulla sanità che notoriamente non sono temi europei. In altri tempi però avremmo sottolineato come errore da matita rossa una matita blu. Scusate perché è un problema che riguarda anche il sistema informativo che non fa nessun richiamo all'ordine salvo quelli che tu hai appena fatto. La Presidente del Consiglio sta facendo una campagna personalizzata con un falso soprannome. Vota Giorgia. Di solito i soprannomi che si mettevano sulle liste elettorali erano dei soprannomi veri. Giacinto Pannella ha detto Marco. Esatto. E quindi sta facendo una campagna elettorale su quel che sta facendo il governo legittimamente. Poi magari ne parliamo. Quindi chi riuscirà a motivare? Perché i sondaggisti danno al PD un discreto risultato. Perché tutti ritengono, Pagnoncelli lo ha scritto ieri molto chiaramente, ma bisogna leggerlo, perché ritiene che il PD ha saputo motivare i propri elettori ponendosi come unica vera alternativa e nuova alternativa al centro-destra. Cosa che invece non sono riusciti a fare, ad esempio, le liste di centro, in particolare gli Stati Uniti d'Europa, che non si è caratterizzata come forza di centro-sinistra unica in grado di creare un'alternativa al centro-destra. Chiudo dicendo che, appunto, dando riconoscimento al PD di avere fatto una campagna con questa idea, motiviamo i nostri, e tuttavia se dovesse galleggiare tra 21 e 22 sarebbe comunque risultato nettamente peggiore che quella forza politica avuta alle europee, che hanno sempre dato all'Ulivo e poi al PD risultati che vanno 31, 26, 23 con Zingaretti. Quindi saremo sotto quegli risultati. Secondo me anche dal loro punto di vista, l'Alleanza Verdi-Sinistra sta facendo un buon lavoro di mobilitazione dei propri elettori, perché ha fatto delle liste con Ilaria Salis, con Ignazio Marino, con Mimbo Lucano, sono delle liste molto caratterizzate e vedremo se saranno premiati. Con dei candidati, come diceva Federica, che sembrano fatti apposta per cogliere ciascuno una debolezza del PD. Tu hai Marino che è la Nemesi, cioè il Vendicatore, il Revengers, tornato a far vendetta degli scambi subiti. Lucano è un altro tornato a fare... Salis è quella che il PD non è riuscita a candidare o che non si è voluta candidare col PD e che gioca sull'antifascismo, sono tutte candidature. Noi abbiamo fatto un articolo di Ruggero Montenegro sul foglio qualche giorno fa che era titolato proprio Lista Revengers ed era un'analisi di ciascuno dei capilista, delle circoscrizioni della lista VS, della lista sinistra e Verdi, che ha delle caratteristiche specifici. Sono liste intelligenti, è difficile trovare oggi, in questo momento, sul proscenio dell'offerta, una lista fatta così bene. Cioè proprio che si rivolge a quell'elettorato lì ed è concorrenziale con il PD e ha individuato delle figure che incarnano ciascuna un'idea. Francesco, quello che invece sembra pagare meno del previsto è la questione delle guerre. Nel senso che c'era Pace, Terra e Libertà che aveva puntato tutto su questo Santoro. Il Movimento 5 Stelle che ha messo la parola pace nel simbolo. Però tutto questo sembra un po' diluito nell'attenzione elettorale. Eppure era un tema europeo sicuramente. Forse l'unico tema europeo che compare in campagna elettorale non è premiato. Come mai? Secondo me è un tema che è molto presente, l'abbiamo detto nel primo blocco, quando si tratta di costruire alleanze, di costruire rapporti e relazioni nei palazzi a Bruxelles. Le persone si stanno allontanando un po' da queste tematiche e soprattutto secondo me non sono temi che impattano sull'elettorato da un punto di vista proprio sentimentale. Anche perché banalmente dire come fa ad esempio il Movimento 5 Stelle, Pace e basta armi, senza individuare uno sbocco, una soluzione ad esempio per la guerra in Ucraina che non sia riapriamo a negoziati come se non si fosse mai provato in questi anni o se ci fossero degli spiragli che non sono stati colti. Ecco, da questo punto di vista è molto difficile che questo solletichi l'elettorato italiano. In parallelo c'è anche da dire, ripeto, che secondo me non c'è nessun tema in questa campagna elettorale che in qualche modo sia rilevante e sia capace di spostare l'elettorato da un partito dove ciascun elettore si riconosce. Si diceva giustamente prima, ovviamente è un'elezione proporzionale con le preferenze, quindi ci sono partiti che stanno lavorando più e meno bene sui candidati e portando diciamo in qualche modo nelle liste persone che possono attrarre degli elettori indecisi o degli elettori che possono passare da un partito all'altro. Si è fatto l'esempio di Vannacci a destra e di Lucano, Marino e Salvi a sinistra, ma ripeto, a mio avviso, e questo ce lo dicono più o meno tutti i sondaggi nel senso che più o meno è dal 2022 a oggi che vediamo i stessi numeri, l'elettorato mi sembra abbastanza fisso, abbastanza poco mobile e escluderei, libero di essere smentito dai numeri il 10 giugno, grosse sorprese rispetto ai numeri che vediamo oggi. Fabio, c'è Conte che rivendica oggi in un'intervista al mattino, leggo, la nostra battaglia si sposta al Parlamento europeo dove i nostri parlamentari si batteranno per una direttiva europea sul reddito di cittadinanza. Sposta un tema che in Italia ha fatto la fortuna del Movimento 5 Stelle a livello europeo e anzi rimprovera. Lega e Fratelli d'Italia dice che pur facendo parte di un gruppo non hanno portato a casa nulla per l'Italia, anzi hanno fatto solo danni, vedi la riforma del patto di stabilità. Cioè cerca di scompaginare anche un po' la partita in questo senso, Conte, che proprio per quello che dicevamo pace non sta pagando in questo momento, quindi bisogna trovare qualcosa. Sì, insomma sono temi che possono entusiasmare una quantità relativa di elettori. Tra l'altro c'è una questione dimenticata e tuttavia rilevante. Il Movimento 5 Stelle è stato protagonista di un'odissea nel Parlamento europeo perché praticamente ha bussato a tutti i gruppi parlamentari e nessuno ha ritenuto opportuno ospitarli. Doppia odissea perché si è dissanguato, è partito con X parlamentari e è arrivato con la metà. Anche, anche certamente, ma soprattutto ha cercato di entrare in tutti i gruppi parlamentari europei, da Farage ai verdi, alla sinistra. E curiosamente nessuno li ha ospitati. Questo è un dato curioso, diciamo, originale, molto originale. Per il destino elettorale del Movimento 5 Stelle che, giustamente tu dicevi, ha goduto della battaglia importante, insomma, rilevante, oggettivamente rilevante sull'edificazione delle elezioni politiche del 22. Questa volta questa arma non c'è e quindi quel tema che si diceva poco fa, e cioè riuscire a motivare gli elettori è una delle possibilità di avere un buon risultato, una buona percentuale, il Movimento 5 Stelle ha un'arma spuntata perché adesso cerca di dire che un reddito di cittadinanza a livello europeo ovviamente è un tema che non può sfondare con la stessa forza che ebbe invece la battaglia precedente. Quindi è molto interessante il risultato finale delle elezioni per i 5 Stelle e si tratta di capire, e lo dico con rispetto per chi fa il lavoro del sondaggio, capire quanto c'è di trascinamento nell'attribuire ai 5 Stelle una sostanziale stabilità alle prossime elezioni, trascinamento del passato e quanto invece ci sarà invece di perdita oggettiva di elettori magari poco motivati ad andare a votare per il Parlamento europeo. Ci stiamo per fermare ma vi do un'altra notizia, è arrivata in tribunale in taxi insieme ai suoi genitori e per la prima volta non verrà portata in aula in manette con le catene alle caviglie Ilaria Salis, la 39enne attivista italiana che è a processo a Budapest, leggo dall'agenzia, con l'accusa di aver aggredito, lo ricordate, un paio d'anni fa dei militanti di estrema destra, Salis è entrata rapidamente fra giornalisti e il gruppo dei suoi nemici, tra i quali c'è anche Zero Calcare, il famoso vignettista che l'attendevano all'esterno del tribunale, oggi terza udienza del processo a suo carico. Ci fermiamo un istante. 8.58 di nuovo in studio con un ospite in più, buongiorno ad Alberto Orioli, il vice direttore del sole 24 ore in questo momento a Trento per il festival dell'economia. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora parto proprio da te, senti nel giro di 48 ore il governo sospende il redditometro per varare oggi il salva casa. Se dobbiamo intravedere delle linee di politica fiscale non tutti ne saranno contenti. Sì e soprattutto non sono del tutto lineari per rimanere sul tema. La questione del redditometro ha messo a nudo la delicatezza e la sensibilità del tema fiscale anche all'interno della maggioranza e ha pagato pegno alla campagna elettorale evidentemente. Campagna elettorale, l'avete detto abbondantemente voi prima, che sta toccando temi che sono tutto tranne che temi europei e questo è davvero un grosso problema anche nell'azione, come posso dire, di pedagogia civile che comunque le forze politiche devono fare a maggior ragione durante una campagna elettorale. Sarebbe sicuramente il momento più importante adesso per tentare di portare argomenti per creare, diciamo così, quell'opinione pubblica continentale che è fondamentale per avere uno sviluppo strategico dell'Europa che in questo momento è sottoposta a uno stress come non ha mai avuto nella sua storia, perché siamo all'interno di una pressione enorme fra la competition che c'è adesso tra Stati Uniti e Cina. Comunque non voglio dilungarmi su questo, ma il tema fiscale si è ridotto a un tema banale da campagna elettorale perché è tornato in auge il tema redditometro che è una parola tabù, soprattutto nel centro-destra perché ha una memoria, effettivamente ha una scia di contenziosi fiscali perché nelle sue prime versioni era uno strumento molto grezzo che si è prestato anche a soprusi, eccetera. Però nessuno è riuscito a spiegare bene che in realtà il redditometro, così come era stato congegnato dal viceministro Leo, consentiva l'incrocio di circa 200 banchi dati con le tecnologie digitali che abbiamo adesso, diventano strumenti molto sofisticati di interpretazione del dato e di possibilità di tracciare la realtà di un reddito o la realtà di una condizione appunto fiscale o di ricchezza, per così dire. Tra l'altro è uno strumento che, come era stato abbondantemente annunciato, avrebbe agito soltanto di fronte all'idea dei grandi evasori e non a caso comunque questo aspetto in parte viene recuperato dalla stessa Premier Meloni che ha detto che verrà riscritto sostanzialmente questo provvedimento mirato di più, sostanzialmente con più evidenza anche narrativa perché poi alla fine stiamo parlando di quello, solo di comunicazione, di narrazione, per la caccia ai grandi evasori. Il salva casa è un'altra mancia da campagna elettorale evidentemente che agisce su una serie di problemi micro che gli italiani hanno perché di fatto è capitato a tanti immagino, a meno da quello che vediamo anche noi, di avere dei problemi perché la finestra è stata allargata magari da un parente e non riesci più a venderla perché non hai l'autorizzazione, cose di queste minutaglie, diciamo così, che però sono dei fastidi di burcrazia e si è deciso di affrontarli. Come ha detto il Quirinale però in effetti la questione della necessità è d'urgenza che se sono i requisiti preliminari per il decreto, l'urgenza è il voto, probabilmente è un po' discutibile, diciamo la verità. L'urgenza è solo l'8 giugno. Esatto. Federica, che ti pare di questa coppia di cose che arrivano praticamente insieme? Vabbè, sulla questione politica sono d'accordo con il vice direttore del Sole nel senso che il redditometro è stato interessante dal punto di vista giornalistico perché ha mostrato come il tema del toccare l'età, l'evasione fiscale presunta, parliamo di presunta, sia un tabù e quindi ci sia stata questa cosa clamorosa per cui un viceministro, uomo forte di Fratelli d'Italia ha, non si sa come, portato un provvedimento fino alla gazzetta ufficiale senza che lo sapessero il ministro Giorgetti e la Premi che ha dovuto, con una mossa veramente clamorosa, sospenderlo e adesso c'ha due vice premier che dicono no, dovete proprio abrogarlo, diciamo sul piano politico questo e per la pace edilizia esattamente. Come se Leo agisse nottetempo e da solo, ecco, sembra questo. E la pace edilizia è chiaro che l'urgenza, come hai detto tu, era il voto, però se poi andiamo a guardare i contenuti io invece sono meno critica, cioè il super bonus io la penso come Ernesto Ruffini, scusami, il redditometro come Ernesto Ruffini è uno strumento residuale, quindi va benissimo per stanare i grandi evasori, gli evasori totali, poi io penso che però potrebbe essere usato anche per vicende più piccole, c'è sempre poi una discrezionalità e quindi ci sono anche altri strumenti per farlo che consentirebbero di accertare ragionevolmente il tenore di vita senza arrivare a questa invasività e poi penso che per esempio non c'entra con, non consentirebbe tutto, di stanare tutta l'evasione fiscale, però già rendere non solo il posto obbligatorio, ma obbligatorio con delle sanzioni pesanti già risolverebbe qualcosa. Mentre sulla pace edilizia io penso che comunque il tema ci sia, è inutile che facciamo finta di niente, cioè una cosa è sanare qualche cosa in piazza di Spagna o nei parchi naturali, ma ci sono tantissimi paesini dell'entroterra, tantissime zone montane o zone comunque non interessate dal turismo, dagli investimenti e lì ci sono questi abusi anche più della piccola finestra, allora o si decide la linea dura però poi rimane che quel patrimonio non è non è ristrutturato, non è efficientato, non è sul mercato, è come quando parliamo dei campi flegrei, allora ci sono le case, li mandiamo via, perché non è stato fatto finora? Perché poi la gente deve andare da qualche parte, le case devono avere una loro abitabilità, un valore di mercato, quindi tra la teoria e la pratica deve esserci un compromesso. L'intelligenza della politica è non farlo come propaganda o come favore a determinate classi elettorali, ma ragionare sul medio-lungo periodo. Francesco Rancellato. Io parto, la prendo un po' più larga, perché quello che diceva Orioli è molto interessante rispetto a diversi approcci di politica fiscale, sul redditometro potremmo sbizzarrirci a parlare di decreti firmati, di provvedimenti firmati senza leggerli, manine, favore delle tenebre come casi di specie che si sono verificati nel recente e nel più lontano passato all'interno di governi e maggioranza di governo. Però c'è un tema che unisce come una linea rossa redditometro e pace edilizia, decreto casa, chiamiamolo come volete, che è il tema di un governo che deve recuperare delle risorse in qualche modo, perché ci sono 18 miliardi di provvedimenti da rifinanziare, c'è da aumentare le spese militari, lo stanno dicendo all'estero più o meno tutti, c'è un'inflazione che ha rallentato e che quindi aumenta il costo del debito per l'Italia, cosa che non si era verificata negli anni precedenti e c'è una crescita che è ritornata a stagnare in modo pesante. Non dimentichiamo nemmeno che l'Italia è il paese con uno dei deficit, anzi col deficit più alto d'Europa e con uno dei debiti pubblici su PIL più alti d'Europa. Quindi da un punto di vista, e era un lapsus di prima di Federica, c'è il tema super bonus che aleggia come variabile impazzita la costruzione dei saldi di bilancio per il prossimo esercizio dello Stato. Quindi da questo punto di vista, secondo me, il tema che sottende tutto quanto, al netto delle mance elettorali, al netto delle manine, è che c'è un problema di reperimento delle risorse da parte della maggioranza per provare a far qualcosa. Noi ricordiamoci da dove siamo partiti, siamo partiti nel 2022 con una coalizione di destra che ha vinto con il programma più costoso tra tutte le forze, diciamo che tra quelli che è messo in campo dalle diverse forze politiche. Allo Stato attuale, diciamo, di quel programma non è stato praticamente realizzato nulla o quasi, anche perché le risorse sono veramente molto poche. Vincoli di bilancio, certo. Fabio? No, è una chiave di lettura da approfondire, nel senso che è evidente che sia il redditometro che la cosiddetta pace edilizia, hai adottato questo termine di Salvini, no, vabbè, ma l'uso dei termini non è indifferente. Sono segnate tutte e due da, come dire, la potremmo definire una valutazione di impatto elettorale, una per cancellarla e una per promuoverla. E tuttavia è stata talmente bizzarra questa vicenda del redditometro per come è emersa e come si è a ritrocessi, che non può non esserci un problema enorme di bilancio pubblico, nel senso che il super bonus ha avuto sulle finanze pubbliche italiane lo stesso effetto di una guerra. E non sto esagerando, nel senso che il costo per l'erario, quando il governo è entrato in carica a ottobre 22, era di 61 miliardi, oggi è di 122 miliardi. Si è atteso, ma si è, diciamo, procedura. Questo significa che è evidente che c'è una caccia spasmodica alle risorse che non impedirà quasi certamente in primavera, in autunno, una procedura per disavanzo eccessivo per l'Italia che significherebbe però vincoli di bilancio assai seri. Ecco perché c'è una ricerca spasmodica, in certi momenti incomprensibile, come quella che ha visto come sfortunato protagonista l'onorevole Leo. E Salvatore? Beh, è proprio così. Hanno venduto il 2,8% dell'ENI in borsa per fare cassa. Si prevede che venga messo sul mercato una percentuale importante delle ferrovie, 20 miliardi per fare cassa. Verrà ulteriormente privatizzato poste per fare cassa. D'altro canto i soldi come si prendono? O aumenti le tasse. Anzi, guardate, la prima cosa sarebbe tagliare la spesa. Ma la spesa in Italia, malgrado le commissioni, i cottarelli, i perotti, le spending review, le parole, sono anni che se ne parla, nessuno ha tagliato nulla. Lo Stato italiano costa tantissimo e non si capisce perché nessuno, né di destra, né di centro, né di sinistra, riesce a metterci le mani e a tagliare un pochino, a limare appena appena le unghie. La risposta è facile, Salvatore. Bisogna avere la forza per governare cinque anni facendo dei provvedimenti. Ricordiamo Margaret Thatcher, qui tanti la raccontano questa storia, nessuno la fa. Margaret Thatcher fece le riforme costosissime, costosissime in termini sociali. Dieci anni dopo la Gran Bretagna era rinata, ci fu poi il regolare cambio perché in politica cambiano le maggioranze, fecero lavorare Margaret Thatcher, poi arrivò Blair, eccetera, eccetera, ma la Gran Bretagna intanto era ripartita ed era un paese morto economicamente. Non c'è alcun dubbio, però ed è anche assai vero per quanto riguarda l'elefantiaco Stato italiano che ci sono tantissime spese che forse si potrebbero ritoccare senza che questo però crei degli sconquassi o delle rivolte o delle sofferenze sociali. Invece le sofferenze sociali poi arrivano quando finiscono i soldi in cassa e allora devi tagliare i servizi e devi tagliare la sanità. Quindi dicevo però, è proprio quello che dicevano, dicevate prima tutti, cioè non ci sono i soldi, quindi come li reperisci? O tagli la spesa e non la tagliano, o aumenti le tasse, o fai cassa vendendo e alienando proprietà dello Stato, quindi vendi pezzi delle partecipate, vendi anche gli immobili che appartengono allo Stato. C'è un'altra strada, diminuisci i servizi. Ecco, quello è la cosa che bisogna evitare di fare, appunto. Quindi prima di arrivare a quello vendi, aumenti le tasse e cerchi di stanare gli evasori fiscali con il redditometro. E torniamo al punto di partenza. E qui. Abbiamo fatto il giro di tutte le ipotesi, ci fermiamo un istante. Eccoci. Alberto, volevo tornare un attimo su queste polemiche sul PNRR. Salto però se l'algoritmo, se li ha decisi lui, i soldi all'Italia, eccetera, eccetera. C'è invece il problema ma 2026 è teoricamente ancora la data ultima per realizzare tutto. Siamo ancora troppo indietro e quei denari servono per la modernizzazione del Paese. Come finisce questa partita, che è una partita decisiva? No, bisogna assolutamente sperare che finisca bene, questo è evidente, al di là poi delle polemiche politiche che lo accompagnano fin dalla sua nascita. Detto tra parentesi, l'algoritmo è vero, nel senso che era un algoritmo con alcuni correttivi sugli andamenti dei cicli economici e quindi era frutto comunque di una proporzione matematica che è stata decisa poi dal Consesso europeo in quell'occasione. Adesso c'è un ritardo abbastanza netto nella fase attuativa dei provvedimenti che sono legati all'erogazione della sesta rata. C'è un primo dato che indicherebbe il 28% dei gol raggiunti e l'altro della Corte dei Conti che però si riferisce a un periodo leggermente precedente, addirittura 10 punti meno. La qualcosa preoccupa molto il Ministro Fitto evidentemente che però sostiene di avere invece un altro cronoprogramma, diciamo così, per cui è convinto di riuscire a realizzare tutti gli obiettivi, i target e il milestone legati soprattutto alla sesta rata nei tempi previsti. È la fase più delicata perché la prima fase era quella che vedeva il governo italiano impegnato a impostare le riforme perché come sappiamo il PNRR per la prima volta concede fondi scambiando riforme investimenti in una modalità, in una formula che non era mai stata utilizzata in Europa fino adesso. La prima fase era quella di impostazione delle riforme, di implementazione quella successiva ed è stata fatta sostanzialmente, c'è ancora qualcosa non banale peraltro intorno al tema giustizia che naturalmente è molto delicato, però le altre riforme sono state fatte, sono state vagliate, sono state accettate dall'Unione Europea. Adesso è la fase applicativa degli investimenti, cioè della messa a terra, come si suol dire, della delivery, cioè della creazione dei cantieri, finite le gare, finiti i bandi, è la fase in cui effettivamente si devono aprire i cantieri per dare sfogo agli investimenti concreti in opere sostanzialmente perché una parte poi di quei fondi in realtà è stato utilizzato per gestire i benefici, cioè i crediti d'imposta erogati a vario titolo, non il super bonus naturalmente, ma altri tipi di crediti d'imposta legati a investimenti e a nuova occupazione. Quindi questo è lo stato dell'arte, è molto delicato, è importantissimo perché è l'unica leva che il governo e l'Italia ha per consentire al PIL di crescere. In questo momento in cui c'è una fase di stagnazione della manufattura e in cui la crescita la stanno facendo i servizi è un boom forse imprevisto del turismo, ma che non è sufficiente per compensare il calo e la gelata che c'è adesso nella manufattura. Quindi la spinta che danno i fondi del PNRR agli investimenti e quindi alla spinta al moltiplicatore sul PIL è decisiva perché più cresce il PIL poi naturalmente per la proporzione più diminuisce la proporzione tra deficit e debito PIL, che è un altro degli obiettivi importanti che deve perseguire il governo come ben sappiamo, pur sapendo che dovremo affrontare sicuramente la procedura di infrazione in sede europea per quanto riguarda il quadro dei conti pubblici. Anche perché di tutte le riforme, cioè la prima fase vediamo ancora pochissimo e soprattutto sentiamo pochissimo e delle opere in corso di canterizzazione non c'è traccia, però questo è lo stato dei fatti agli occhi degli italiani. Poi ti ci sia un difetto anche narrativo purtroppo sul PNRR perché probabilmente questo governo non lo ha mai sentito come creatura sua, anche se adesso lo ha modificato ed effettivamente questo è il PNRR di Giorgia Meloni e di Fitto. Quindi non c'è stata una costruzione narrativa per farci capire che cos'è il PNRR delle cose, quello concreto che tutti noi potremmo vedere che in realtà sta dispiegando effetti visibili nelle città. Ci sono tantissime opere sulla viabilità cittadina per dire in alcune medie città italiane che sono andate a buon fine. Una gran parte della ristrutturazione dei teatri o dei musei è già stata portata a buon fine con i fondi del PNRR, però manca come posso dire un brand, manca un qualcosa che il cittadino passando e vedendo un cantiere possa capire che quello è il cantiere legato ai fondi del PNRR perché non c'è una barriera, un simbolo, qualcosa che lo possa rendere riconoscibile. Anche per fare il bene dell'Europa e forse all'Europa serve. Questa non è solo Federica, ti cito quello che ieri ha detto Mattarella alla commemorazione di Goria e per la commemorazione di Goria 88 ha citato una frase dello stesso Goria. Questa non è solo la costituzione del nostro passato ma anche del nostro futuro. C'è questa polemica soft che arriva dal Quirinale, polemica soft ma visibile in qualche modo su premierato, autonomia differenziata, tutte riforme che vanno avanti a corrente alternata poi. Non so se tu hai usato l'espressione polemica soft, diciamo che c'è sicuramente una preoccupazione del Quirinale che però rientra quasi nei suoi doveri, cioè quello di avvisare che è quello che cambieremo nella Costituzione. Hai ragione. No, 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 è vero, è vero, polemica è troppo. Quello che cambieremo e che verrà toccato nella Costituzione avrà poi effetti a cascata. È una preoccupazione, ieri anche il Cardinale Zuppi ha detto, insomma, non conosco il testo però attenzione a dove tocchiamo. È un'interessante opinione estranea però al dibattito politico. Certo, ma diciamo che il tema, io parto dalle tre riforme, la giustizia, l'autonomia differenziata e il premierato, sono riforme che di per sé poi hanno e avranno un iter parlamentare complesso, il premierato in particolare, rapido perché va detto che si leggeva che il primo voto dovrebbe essere il 18 giugno dopo l'Europei ma comunque imminente e anche l'autonomia differenziata sta andando avanti. Però il tema di queste tre riforme secondo me è politico, cioè sono tre riforme ognuna delle quali è la bandiera di uno dei tre partiti della maggioranza, lo sappiamo, no? E questo rende più sospetta l'operazione perché allora si immagina un'Italia alla carte dove non c'è un vero disegno di insieme ma c'è un obiettivo politico. Faccio l'esempio dell'autonomia, ripeto, l'autonomia di per sé non è un tabù, però capisco che per il sud sia difficile credere che un'autonomia fortemente voluta sempre dalla Lega, portata avanti dal ministro Calderoli e quindi da una forza che è nata come un partito del nord e che ha diciamo un bacino elettorale in determinate zone possa essere poi favorevole per quelli del sud. E poi c'è il tema dei soldi, no? Sull'autonomia. Quanto costerà e quanto potrà non essere lettera morta. Quindi il tema è sostanzialmente politico. Le preoccupazioni del Quirinale sono queste e poi il premierato tocca i poteri del Quirinale. Cioè sarebbe più onesto da parte del centrodestra dire che è una nostra legittima scelta di architettura istituzionale, però tocca i poteri del Presidente della Repubblica. No, Federica Fantozzi ha fatto riferimento anche al Cardinale Zuppi. Non trascurerei questo passaggio perché nel passato, nei decenni scorsi, abbiamo riflettuto sulla ingerenza delle autorità religiose su questioni temporali che non hanno mai portato bene alla reggemonia dei cattolici nel nostro Paese. Mi riferisco alla disastrosa, dal loro punto di vista, battaglia sul divorzio, di cui abbiamo ricordato pochi giorni fa. Fermo restando la legittimissima libertà del Cardinale Zuppi, persona tra l'altro di grande finezza intellettuale. Però effettivamente c'è un piccolo ford'opera. Il capo dei vescovi italiani interviene sul premierato. E va bene. Dopodiché... Ah, quindi concordi con me, esatto. Beh, insomma, è una... Cioè, un'interessante opinione, ne prendiamo atto il Cardinale Zuppi e la conferenza episcopale esprimono un giudizio generale. Sì, appunto, ma insomma, la loro mission, la loro compito sembrerebbe nel corso della storia diverso da quella di intervenire o interferire sulla vicenda italiana. Ricordiamo la legge 40, tutta la campagna della Cia di Ruini. Ma quello era tutt'altro, si parlava di diritti, qui si parla di un setto istituzioni. Però si parlava di una legge contro cui loro fecero campagna per far fallire un referendum. Adesso sentiamo anche Salvatore e gli altri su questo. Beh, quella fu addirittura clamorosa. No, sei minuti e dobbiamo parlare... Che fecero leva addirittura sulla disasfezione elettorale. La grande finezza politica del Cardinale Ruini è tuttavia un'interferenza clamorosa. Dopodiché non è che qui stiamo facendo le battaglie anticlericali di fine Ottocento. E tuttavia vale la pena rilevarlo. Chiudo rapidamente soltanto notando che su questo aspetto sarà decisivo il giorno nel quale la Presidente del Consiglio deciderà se procedere a o meno al referendum su questa vicenda. Tutto il resto è relativamente interessante. Perché se lo decidesse, beh, lo scenario politico italiano potrebbe essere destinato a cambiare assai più da questa vicenda che dalle baruffe a sinistra tra Conte e Schlein alla ricerca di un federatore. Perché evidentemente a quel punto potrebbe, condizionale e d'obbligo, determinarsi una maggioranza referendaria molto eterogenea ma comunque ostile alla riforma e quello sarebbe destinato a cambiare i destini politici del Paese. Francesco Cancellato. Sono molto d'accordo con Fabio Martini e con quest'ultima affermazione. Io parto a monte di questo discorso. Da che ho memoria io le riforme costituzionali sono state fatte o almeno pensate qualche volta con successo o altrimenti assieme tra le forze politiche. Ricordo il patto della crostata a casa di Gianni Letta tra Berlusconi e D'Alema. Quelle che erano stati dialoghi tra il governo di Giuliano Amato e la Lega con Calderoli per la riforma del titolo quinto. Ricordo il patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi per la riforma costituzionale poi di Renzi che poi Berlusconi diciamo in qualche modo disconobbe. Tutte riforme che non sono arrivate in porto. Sì però esatto. Però questa volta tranne il titolo quinto. Titolo quinto. Vero. Questa volta forse è la prima volta che la maggioranza decide di andare da sola, di andare dritta per la sua strada in modo così forte e l'opposizione decide di star fuori dalla discussione in qualche modo non rilevando necessaria oggi una riforma costituzionale in un senso tale da attribuire più potere all'esecutivo. Questo vuol dire che diciamo se vai con una riforma maggioranza di questo tipo dove non c'è mai stato nemmeno mezzo tentativo d'accordo e arrivi a un referendum è chiaro che è una reederazione enorme e nel caso passasse questa riforma nel caso passasse crea un precedente gigantesco rispetto a come si fanno le riforme costituzionali in questo paese. Vengo da te Alberto. Vai finisci, chiudi che sento Salvatore e poi c'era Alberto e voleva dire una cosa. Vai, io ho finito. Allora Salvatore. Quanto a Battarella credo di avere capito, forse l'abbiamo capito tutti, che il Presidente della Repubblica ha qualche dubbio sia sulla riforma del premierato sia soprattutto credo io sulla riforma dell'autonomia. Però in seconda battuta il Presidente della Repubblica mai dirà niente contro le riforme perché esonderebbe dal suo ruolo costituzionale. E credo che questo sia stato anche... Meloni e Mattarella si parlano molto più spesso... C'è il vostro articolo su questi incontri continui che ci sono e che sono ovvi. Sono ovvi ed è molto più di quanto forse non si dica e non si racconti. Quindi la Presidente del Consiglio conosce perfettamente in cosa consistono e quali sono i dubbi, le perplessità del Presidente della Repubblica e le ha ben rappresentate. Il Presidente della Repubblica rispetta e conosce la posizione della Presidente del Consiglio. La grande questione politica, al di là del merito della riforma costituzionale, che se poi mi chiedi un'opinione personale, io credo che il sistema istituzionale italiano vada riformato è che non ci sia nessuno che in coscienza ritenga che il nostro sistema funzioni così com'è. Tant'è vero che le riforme di carattere istituzionale le hanno proposte tutti in Italia. Prima il centro-sinistra e poi il centro-destra. Solo che quando le propone il centro-sinistra, il centro-destra si oppone e non le vuole fare perché non approverebbe mai una riforma prodotta dal centro-sinistra. E quando è il centro-destra invece a proporre queste riforme, è a quel punto il centro-sinistra che non partecipa. È un attentato alla Costituzione. E dice che più o meno siamo alle porte del fascismo. Tutto questo è ridicolo. L'Italia ha bisogno di riforme. Non so se la riforma del premierato è scritta benissimo. Probabilmente no, si può migliorare. Sarebbe auspicabile che le forze politiche, con un senso di responsabilità, partecipassero tutte all'ora di una scrittura, di una riforma costituzionale condivisa che dia all'Italia un sistema istituzionale efficiente, al passo coi tempi, capace di rispondere anche rapidamente alle continue sollecitazioni che chi si trova, pensate solo alle guerre, alla pandemia, alle cose che succedono in un mondo che è vorticoso, un sistema istituzionale che garantisca la possibilità al Paese di essere governato. E che tra l'altro sollevi chi si trova a governare dalla continua sollecitazione di dover rispondere alle inclinazioni cangianti dell'opinione pubblica. perché noi viviamo continuamente sottoposti alla campagna elettorale. Questo significa che chi si trova al governo sta sempre con la testa rivolta alle elezioni e quello che fa non lo fa perché magari ritiene che nei prossimi 5-10 anni sia utile e buono quello che sta facendo, ma pensa ai prossimi 5 minuti, ai prossimi 10 minuti, alle elezioni. E hai dato un limite temporale anche ampio. Alberto, ti chiedo di essere rapido. Per quanto riguarda le riforme costituzionali, io credo che Premierato e Autonomie rispondano a istanze sostanzialmente opposte, quindi sono difficilmente componibili. E continuare a smontare la Costituzione a pezzi è molto pericoloso, naturalmente. Io invito i telespettatori ad andare a leggersela la Costituzione e a vedere quanto cambia, anche da un punto di vista linguistico, ovviamente molto peggio. La parte nuova del titolo quinto è quella del giusto processo. Per capire quanto l'aver modificato gli elementi costituzionali, già così crei uno scarto, uno iato che non è banale. Nel senso, le riforme costituzionali vanno fatte insieme. Bisogna creare un meccanismo in equilibrio, con equilibri delicatissimi, tra forma di Stato, forma di governo, in nome dell'efficienza. Però se la stessa Giorgia Meloni può dire io faccio questa riforma non per me, perché la stabilità io ce l'ho. Ma allora, logicamente, la cosa non ha senso, perché evidentemente l'attuale sistema è in grado di garantire la stabilità. Grazie, grazie per la rapidità anche. Ci fermiamo qui. C'è Coffee Break. Domani mattina torna a Omnibus, naturalmente, alle 8. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.